e precedente. Quindi buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nostro ormai sesto appuntamento con il realismo per una fotografia morale dell'arte e riprendendo il discorso della settimana appunto passata, avevamo visto la figura di uno scrittore molto famoso e anche considerato uno dei padri fondatori proprio del realismo in toto anche dal punto di vista diciamo sociale nell'Inghilterra del secondo ottocento, quindi Charles Dickens. Abbiamo visto appunto Dickens figlio di un impiegato presso l'ufficio stipendi della marina britannica poi finito in carcere per debiti, appunto cresciuto nel diciamo in un ambiente abbastanza povero della questione britannica, poi finito a lavorare in molto piccolo, neanche adolescente, in una fabbrica di lucido da scarpe e proprio per fronteggiare anche la questione di debiti alla quale si era abbandonato il padre. L'abbiamo visto innanzitutto in questo ritratto di William Powell Firth della seconda metà del XIX secolo custodito presso il Victorian e Albert Museum di Londra. In questo periodo Dickens appunto compiuti gli studi primari e prima di andare a lavorare in questa fabbrica di lucido da scarpe, si abbandona alla lettura dei classici e anche alla meditazione proprio in mezzo alla natura, come dirà poi successivamente. Un abbandono popolato di memorie fotografiche molto lampanti che verrà descritto benissimo in maniera grafica da Robert William Boss nel sogno di Dickens del 1870 custodito presso il Charles Dickens Museum di Londra. Appunto queste memorie fotografiche che continuavano a ritornare nella mente dello scrittore e che gli suggerivano proprio le scene che poi andava successivamente a raccontare nei suoi scritti. Scritti che ovviamente hanno cominciato a fruttare anche da un certo punto di vista economico perché dopo aver lavorato in questa fabbrica di lucido da scarpe appunto comincia a pubblicare come giornalista i suoi pezzi su riviste ovviamente molto in voga all'epoca e soprattutto anche i primi successi come per esempio i racconti intorno al circolo Pickwick. Tutto ovviamente immerso in una situazione sociale dell'Inghilterra vittoriana che era completamente allo sbando. Infatti l'abbiamo potuta vedere in un tipico scorcio dei bassi fondi appunto della Londra vittoriana e anche dal punto di vista proprio strettamente impiegatizio come il lavoro minorile non solo non fosse appunto osteggiato ma anzi incoraggiato proprio nell'Inghilterra vittoriana dato che i bambini costavano poco e potevano anche fare lavori di una complicatezza anche maggiore e di una pericolosità molto elevata. Intanto appunto erano considerati come una sorta di diciamo merce spendibile dal punto di vista proprio lavorativo. Dunque Dickens comincia a raccontare tutto questo panorama e soprattutto poi lo racconta ovviamente attraverso vari scritti. Vari scritti che poi porterà avanti anche nei suoi lunghi viaggi. Infatti abbiamo visto che Dickens si sposterà in America per esempio dove rimarrà completamente inorridito dalla situazione di schiavitù dei neri appunto nelle piantagioni americane e soprattutto poi riuscirà a ricevere delle sensazioni anche molto utili dal punto di vista letterario dai viaggi che fece in Italia. Viaggi che sono testimoniati da una lapide per esempio dedicata appunto allo scrittore presso la Certosa di Bologna. Dopo tutti questi viaggi comincerà a pubblicare anche scritti proprio inerenti totalmente al tema sociale. Noi abbiamo letto appunto un brano di Art Times for This Times cioè appunto tempi difficili per i nostri tempi anzi per questi tempi del 1854 uno stralcio appunto intitolato Operai e Padroni dove Dickens appunto racconta in maniera molto vehemente e molto concitata qual era il rapporto che intercorreva tra i sottoposti e appunto i padroni delle fabbriche londinesi. Tutto appunto in un clima di rivoluzione industriale che andava molto stretto sia agli artisti sia proprio in prima persona agli operai di queste fabbriche. In questo clima cominciarono anche a prendere piede delle consuetudini particolari dal punto di vista artistico non solo dal punto di vista letterario. Per esempio questo quest'opera di Joseph Hall intitolata Death and the Lady un'opera teatrale vittoriana ripresa direttamente dal teatro parigino del Gran Guinol contro la malignità dei giochi di carte e dell'alcol appunto un'opera del 1906 che affondava le radici proprio in questi turbamenti e in questi disagi dal punto di vista proprio lavorativo della fine dell'ottocento e dell'epoca vittoriana in generale. Cose che verranno anche espresse da un punto di vista molto più macabro per esempio anche in un'altra consuetudine che era la fotografia post mortem appunto soprattutto dei bambini dunque appunto per dire che l'epoca vittoriana era tutt'altro fuorché diciamo situazioni galanti e situazioni anche di benessere da un certo punto di vista economico. In tutto questo Dickens continuerà la sua carriera fino a un punto cruciale cioè il 1865 in cui scampa mirocolosamente a un incidente ferroviario, l'incidente di Staples, dove appunto lo scrittore dà il suo aiuto ai feriti e agli scampati della tragedia ferroviaria e poi ovviamente una tragedia che lo segnerà per tutta la sua ulteriore esistenza. Esistenza costellata da numerose letture soprattutto sempre in America dei suoi dei suoi scritti no letture che constavano di cento appuntamenti lui ne portò a termine 72 e poi dovette grazie dietro il consiglio del suo medico fermarsi dovette fermarsi proprio perché l'insorgenza di malattie gravi e croniche dal punto di vista anche psicologico e fisico cominciarono a debilitarlo via più. Una debilitazione che finì il 9 giugno del 1870 proprio con la morte e la sepoltura presso l'abbazia di Westminster, sepoltura in mezzo a nel cosiddetto poet's corner quindi nell'angolo dei poeti proprio dell'abbazia londinese insieme a tutti i suoi diciamo tra virgolette maestri dal punto di vista letterario e i suoi successori che formarono appunto la storia della letteratura inglese e questo per quanto riguarda la lezione precedente. Oggi invece come accennavo la volta scorsa e come accennavo anche in precedenza ritorneremo in Italia parleremo di Milano quindi appunto di una parte un po' magari sconosciuta della città con i racconti sempre di tematiche prettamente lavorative no? Create da un da una figura abbastanza controversa che rispondeva al nome di Emilio De Marchi. Dunque quest'oggi appunto sempre sulla scorta narrativa del racconto realista sul lavoro tratteremo la figura di un artista che seppe descrivere puntualmente tutto quel panorama fatto di persone anonime, burocrati inconsistenti ed eroici impiegati nella Milano del secondo ottocento. In una sorta di continua simulazione che si potrebbe e anzi che potrebbe risultare foriera e come sostiene appunto Mario Rapisardi nel suo morale nella sua morale dell'arte potrebbe essere foriera di una sorta di noia particolarmente accentuata dal punto di vista letterario. Dunque continuando nella citazione della morale dell'arte appunto di Mario Rapisardi diciamo che nei rispetti appunto di questo tema appunto prettamente ostico del realismo diciamo che appunto Rapisardi a questo punto cita. Ho detto dunque e lo ripeto che l'arte è una cosa a sé sui generis come dicono nelle scuole che essa è arte in quanto riproduce trasformando la materia che la offre la natura. Ho detto inoltre che per questa materia offerta dalla natura c'è l'ideale che è la forma più alta della vita. vi ho fatto osservare con gli esempi che la morale non ci ha a che vedere direttamente con l'arte. Ora aggiungo per meglio chiarire il concetto che la morale, la religione, la politica e tutte le altre sante o indiavolate cose della vita e passioni degli uomini possono trovare posto nell'opera d'arte. Anzi una o più di esse insieme possono essere la materia prima su cui lavora l'artista per produrre l'opera sua ma che l'opera d'arte non risiede in esse che con esse e senza di esse l'opera può riuscire bella o brutta secondo che si conformi o no a quella unica e necessarissima condizione di riuscire alla perfetta simulazione della vita. E già che ho usato la parola simulazione permettete che mi ci fermi un poco per chiarirne il vero significato. Non c'è ragazzo che non dica questo è convenzionale, questo è retorico e però è brutto. Convenzionalismo. O che cosa vuol dire questa barbar voce? Se si intende per essere una simulazione di affetti non sentiti realmente, di uomini e di società né veri né verosimili, allora amen. Ma se per convenzionalismo e per retorico si vuole significare, come ho forte ragione di temere, tutto ciò che esce dalla cerchia della vita ordinaria, dall'indole comune degli uomini, tutto ciò che insomma che non è ovvio alle intelligenze e alle anime volgari, allora si offende l'arte stessa che si vuol difendere, togliendo all'artista il diritto che egli ha di rappresentarci dei fatti e dei personaggi lontani per tempo e per costumi da noi. Sarebbe davvero bella che non ci si potesse, in grazia del malinteso metodo positivo, rappresentare altro se non ciò che si vede, si sente, si prova tutti i giorni, mettendo da parte tutto ciò che si innalza dal livello comune, tutto ciò che splende e s'avviva della luce dell'ideale. Allora, vedete bene, e Omero e Dante e Shakespeare e tutti i grandi poeti non sarebbero che altrettanti retorici perché né Omero assistè deviso alla guerra di Troia, né Dante andò ai tre regni, né Shakespeare praticò o conobbe, né pur di vista la signorina Ophelia, sua altezza Amleto e sua maestà Macbeth. Eppure, a sentir certi ammonitori e cucinieri di estetica nuova, l'ardellata di Zola e di Rolinà, il poeta o il romanziere, per essere vero, deve prendere la squadra e il piombino degli agrimensori per saper dire quanti metri quadrati e che pendenza abbia quella tal piazza, dove il giorno tale, allora tal'altra e a tanti minuti, la serva A della signora B andò a compiere la importante missione di comprare un galletto. Lo scrittore ha da stare tutte le ore del giorno a quel posto che vuol descrivere, per vedere che ombra proietti il pilastro a manca alle due dopo mezzogiorno e che effetto faccia quell'altro piolino a sinistra in una giornata nuvolosa d'ottobre e così di seguito. Chi non fa a questo modo lavora di maniera, riesce falso, convenzionale e pesante. Pesante. Un'altra delle famose parole della critica nuova. Oggi siamo a tali ridotti che di nessuna cosa che appartenga alla scienza, all'arte, alla vita, si può discorrere o scrivere seriamente senza che la turba non mormori. Che uomo pesante, che libro noioso. Dunque in questo passaggio della morale dell'arte la Pisardi appunto si interroga sulla questione noia e soprattutto su il compito del realista, che ovviamente non deve pedissequamente seguire tutto quello che gli passa davanti nella realtà nuda e cruda, ma deve metterci un po' del suo. Dunque uno degli interpreti più calzanti proprio di questo equilibrio, cioè appunto del realismo proprio nudo e crudo e anche di una certa novità e di una certa idea nella rappresentazione letteraria fu proprio Emilio De Marchi. Dunque apparentemente noioso e scrittore di genere, Emilio De Marchi, scrittore appunto poeta e traduttore, nasce a Milano il 31 luglio 1851 ed è ritenuto fra i più importanti narratori del secondo ottocento lombardo ed italiano, concentratosi nella descrizione della vita contadina e della piccola borghesia milanese della quale lui faceva parte. Ovviamente arrivando sempre da una famiglia diciamo abbastanza umile. Qui lo vediamo in un ritratto fotografico del XIX secolo. Figlio di Giovanni De Marchi e Caterina Perego, nonostante appunto le modeste origini della sua famiglia, presto orfano di padre, riuscì comunque a laurearsi in lettere nel 1874, presso l'allora Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, che poi successivamente prenderà il nome di Università degli Studi. Dall'Accademia divenne in seguito segretario e libero docente di stilistica. Infatti poi comincerà anche una carriera accademica di un certo livello ed entrerà appunto a far parte della media borghesia della città di Milano. Media borghesia che poi racconterà benissimo, come vedremo tra poco, nei suoi scritti. Un ruolo attivo, scusate, interessante è la frequentazione però del mondo letterario milanese, dominato in quel momento dalla scapigliatura. Dunque De Marchi, di una famiglia umile, un bravissimo studente, laureato appunto in lettere nel 74 e una persona pressoché tranquilla, frequenta gli ambienti della scapigliatura, che come abbiamo potuto vedere in pittura erano ambienti abbastanza particolari proprio dal punto di vista della ricerca artistica e anche della vita sociale. Tutti però appunto un panorama anche quello fatto di esponenti dell'alta borghesia milanese. Alta borghesia che è rappresentata appunto in questa fotografia passata alla storia con i massimi esponenti letterari appunto della scapigliatura. Vediamo Emilio Praga sulla sinistra, Carlo Dossi, Luigi Conconi e Giovanni Giacchi. Ovviamente frequentandoli De Marchi si espresse anche ovviamente a proposito dei poeti scapigliati, con una frase che abbiamo già avuto modo di appunto di citare nella lezione di Tranquillo inerente a Tranquillo Cremona e che appunto recitava quanto segue. Vedendo poi questa foto è appunto proprio lampante l'esattezza della visione di De Marchi. Infatti De Marchi in base a quello che vide disse degli scapigliati tutti amarono l'arte con geniale sfrenatezza la vita uccise i migliori. Dunque appunto De Marchi non frequentava l'ambiente scapigliato ma non ne faceva parte proprio perché non avvallava a pieno il pensiero portato avanti da questa corrente. Comunque anche la frequentazione con gli scapigliati ha dato una marcia in più alla sua ricerca letteraria. E poi un ruolo attivo proprio dal punto di vista istituzionale, appunto anche nelle istituzioni caritative della città, verrà dal De Marchi raccontato nei suoi romanzi. Lontani dalle esasperazioni naturalistiche incontrate finora è fedele agli insegnamenti manzoniani fatti di equilibrio e rigore morale del realismo a cui era spinto anche dal suo credo cristiano. Infatti come Manzoni anche De Marchi aveva una grandissima sudditanza dal punto di vista religioso, lo si potrebbe anche definire quasi un mistico e appunto continuerà per tutto il resto della sua vita anche a criticare proprio anche asparamente i suoi colleghi che non seguivano questi precetti di vita proprio nei binari della religione. Fu fondatore della rivista La vita nuova e contrasterà la fusione con la rivista radicale Il Preludio, poiché riteneva inconciliabili i due punti di vista. Dunque appunto il conservatorismo di De Marchi non portava alla unione di varie riviste appunto più o meno radicali che potevano confondere diciamo le idee anche dal punto di vista proprio del pensiero. E tra il 1876 e il 1877 si dedicò al romanzo, anzi ai romanzi pubblicati secondo l'uso del tempo in periodici e quotidiani come Tra gli stracci, Il signor Dottorino e Due anime in un corpo. Due anime in un corpo appunto che è una di quelle espressioni a cavallo tra la borghesia e la vita contadina, rappresentata benissimo per esempio anche dalle riproduzioni dell'epoca come vediamo in questa fotografia che rappresenta il mulino Vettabbia a fine XIX secolo, appunto dove De Marchi univa queste due caratteristiche della sua vita e ne faceva proprio l'esempio lampante di come si potesse avere una vita diciamo onorevole tra virgolette oppure anche abbastanza risoluta arrivando dalla campagna e stabilendosi anche da un punto di vista proprio di ruolo sociale nella città. Dunque una cosa che poi verrà ripresa anche dal punto di vista proprio del racconto canzonettistico poi nel novecento. In questi primi lavori che abbiamo appena citato la morale è quella borghese dove manzionanamente rassegnazione ed onestà pagano più della sovversione e della violenza in scene nelle quali il contrasto doloroso tra ricchi e poveri non autorizza la lotta di classe. dunque De Marchi appunto continua nella sua opera di diciamo conservatore e anche proprio nella sua opera di pacere dal punto di vista religioso nel nella sua ricerca stilistica. Nel 1888 la svolta con il cappello del prete il cappello del prete che vediamo qui in un frontespizio delle edizioni Garzanti di Milano pubblicato in Milano nel 1946. Cappello del prete dove inventò il romanzo noir, nuovo genere letterario non ancora approdato nel panorama appunto letterario italiano. Infatti proprio dal cappello del prete si fa iniziare la tradizione noir della letteratura italiana e proprio di questo libro verrà poi prodotto e verrà tratto uno sceneggiato televisivo appunto edito negli anni 60. Dunque questo romanzo ambientato a Napoli vede un cappello come unica traccia che conduce a svelare l'uccisione di un prete diciamo affarista da parte di un nobile spiantato. Il cappellaio si accontenta di un terno come pagamento di un cappello da prete. I numeri escono ma nel frattempo il prete è ucciso. Dunque vi è proprio tutto questo racconto fatto di cabala, di superstizione, di giallo e di sempre una sorta di diciamo lotta di classe all'acqua di rosa che dà proprio le basi del racconto noir del cappello del prete. E noi porremo la nostra attenzione non su quest'opera ma sull'opera successiva uscita intorno al 1889 e che vediamo qui in una edizione Vallecchi del 1970 dal titolo Demetrio Pianelli nel quale torna una ambientazione tipicamente milanese. Tale romanzo appartiene al filone del romanzo Impiegatizio in cui dimessi eroi condannati ad una mediocre routine scoprono dentro di sé il bisogno di una felicità regolarmente negata. E dunque adesso procediamo proprio alla citazione di un brano da Demetrio Pianelli. Una citazione appunto che è racchiusa sotto il titolo di un impiegato del regio De Magno. Dunque in questo stralcio vedremo proprio come De Marchi riusciva a raccontare la vita assolutamente anonima dei burocrati della città. E iniziamo con un consueto appunto riassunto dello stralcio. Il breve ritratto che Emilio De Marchi ci offre del protagonista del suo maggiore romanzo Demetrio Pianelli in questa pagina così sapidamente evocativa ci consente di immetterci subito nel mondo di quelli dalle mezze maniche. L'anonimo e grigio esercito dei piccoli burocrati, degli impiegatucci, degli scritturali, degli archivisti, la cui vita sfiorisce lentamente, senza rimpianti e senza ribellioni, tra montagne di pratiche da evadere, polverosi scaffali e ripieni di scartoffie, registri e moduli da compilare e da aggiornare, relazioni interminabili da ricopiare in bella e nitida grafia. In mezzo a questa folla di travè, umili ed ossequiosi, troneggia onnipossente come un nume il capo ufficio, da un cui cenno pare dipendere il destino stesso dei suoi dipendenti. De Marchi punta l'obiettivo sul suo personaggio e lo segue nel metodico e lento succedersi dei suoi gesti abituali, in tutte le piccole consuetudini di cui è intessuta quella grama esistenza di impiegato esemplare. Avverti sotto la maschera stilizzata che potrebbe adattarsi ad un qualunque di quegli uomini, curvi sotto il peso del deprimente sempre uguale al lavoro d'ufficio, la desolazione di una vita condotta fra stenti, rinunzie, illusioni cadute, nello squallore di una stanca solitudine. Ancora una volta un brano di costume, un ritratto d'ambiente, si concreta nella palpitante umanità di una figura patetica e di un mondo psicologico sensibilmente individuato. Dunque procediamo appunto alla citazione del brano, quindi un impiegato del regio De Manio. Demetrio giunse in ufficio con qualche minuto di ritardo, un'ora prima del suo capo, il cavaliere Balzalotti. Arrivato al suo posto, che era un tavolo accanto a una finestra, difeso contro i colpi d'aria da un vecchio e logoro paravento, tolse prima di tutto il sigaro di tasca, lo guardò alla luce se c'era tutto e lo collocò come una preziosa reliquia sopra lo sporto della finestra. Aprì il cassetto e controllò i due panini nel cartoccio. Fece una rapida ispezione al suo cappello rotondo. Vi picchiò su con un buffetto per rispazzare via un filo di polvere. Lo tuffò delicatamente in una custodia di carta fatta apposta e lo collocò nella sua vestina sull'ometto. Poi aprì un altro cassetto e trasse fuori le due manichette di tela lucida che egli metteva per scrivere. Se le infilò, diede una nervosa e rapida fregatina alle mani, chiudendo gli occhi, accartocciando tutte le rughe della faccia. Poi cominciò la dirigente pulizia degli occhiali. L'egregio cavaliere Balzarotti, da qualche tempo, aveva fatto venire il Pianelli nel suo ufficio e se ne serviva come di copista per una lunga relazione intorno alla esazione sulla tassa di bollo e registro che doveva essere presentata per Pasqua al Ministero delle Finanze. Il tavolone del cavaliere, pieno pieno di carte e di allegati, era posto nel mezzo della parete, sotto un bel ritratto del re, tra due campanelli elettrici, poco lontano dalla bocca del calorifero. Il Pianelli, uomo paziente, discreto, di poche parole, era come se non ci fosse. Copiava, ricopiava, scriveva sotto dettatura, con una calligrafia grossa e precisa, senza fare tante questioni di lingua e di grammatica, come pretendono certi chiacchierini saputelli che, per essere stati bocciati alla quarta ginnasiale, credono di saperne più dei superiori. Demetrio, non molto forte anche lui nelle questioni, dirò così, filologiche, copiava tutte le parole ciecamente, senza discutere mai, senza mai cercare se avevano un senso o se dovevano averlo. Egli non si sarebbe mai permesso, per esempio, nemmeno una timida osservazione sui molti Laonde che il cavaliere seminava nei suoi periodi e nelle sue relazioni al ministero e fingeva di non capire lo scherzo quando qualche burlone degli altri uffici gli domandava notizie del cavalier Laonde. Tutte queste buone qualità d'uomo discreto e modesto gli avevano guadagnata la stima e sarei per dire quasi l'affezione del suo capo, che una volta gli aveva ottenuta una piccola gratificazione e prometteva di fare qualche cosa di più per l'avvenire. Demetrio, d'accanto suo, si era affezionato alla sua sede di pelle sotto la finestra, che rappresentava dopo tante burrasche un porto sicuro e tranquillo, ovve egli poteva riparare la vecchia carcassa della sua barca. Sul cuoio lucido di quella sedia erano rimaste le infossature di due o tre generazioni di impiegati che avevano tratto di là il pane dei loro figlioli e le spese capricciose delle mogli. Egli, che non aveva né moglie né figli, sperava di uscirne coi calzoni meno stracciati. Data un'altra fregatina alle mani, se le portò alla testa e carezzò due o tre volte con palmi le due gote come se si asciugasse la faccia e presa la penna, dopo averla provata sull'unghia grossa del pollice, ricominciò a copiare al punto dove era rimasto il giorno prima. Avvegna che non sembri a codesto eccelso ministero poco retribuito il reddito imponibile nonché gli altri cespiti tassativamente indicati nella precittata circolare del 10 ultimo scorso, numero di protocollo 54647, posizione 32, numero di partenza 307 e oltre a ciò avvegna anche che non abbia a partire detridimento l'organica esazione come la OND, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, proprio anche dalla conclusione di questo piccolo stralcio del Demetrio Pianelli, vediamo come De Marchi riesce a raccontare in maniera quasi scarna proprio una giornata tipo di un impiegato nella Milano del secondo ottocento dove appunto non è importante capire quello che si fa, l'importante è farlo. E dunque appunto proprio qui sta la chiave ovviamente della recitazione ma anche della ricerca proprio stilistica di De Marchi che ricordiamo appunto da letterato e da laureato andava sempre a spulciare la questione proprio grammaticale e anche proprio la pedagogia della scrittura. Dunque, detto questo, diciamo che lo scritto poi del Demetrio Pianelli si svilupperà con una seconda pubblicazione e si svilupperà con il suicidio in seguito del fratello a causa dei debiti ed il protagonista Demetrio dovrà portare avanti economicamente la famiglia. Crede di trovare la felicità sposando la cognata ma data l'esasperazione arriva ad insultare il capo ufficio e viene trasferito. Dunque, l'unica volta che Demetrio Pianelli riuscirà a prendere coraggio e a fare un qualcosa che magari avrebbe dovuto fare da tempo avrà l'effetto contrario. Dunque, il capo ufficio lo trasferirà e tutto il suo diciamo finto castello di benessere crollerà nel giro di pochissimi istanti. un racconto molto puntuale come quello appunto di Dickens nello stesso periodo nella Londra vittoriana. più che scusate più che ha dei vinti descrittivi da scusate un attimo ok eccomi qua ho ripreso il filo più che ha delle tinte descrittive riprese da Giovanni Verga padre del Verismo De Marchi interviene nel racconto attraverso Demetrio che fa pensare ad una umanità dolente di umiliati ed offesi però sempre bilanciati da una sorta di umorismo manzoniano che si ritrova sempre nelle rappresentazioni descritte da De Marchi e che sarà proprio un leitmotiv della sua ricerca stilistica infatti Manzoni per De Marchi era veramente il padre della letteratura in generale in seguito del romanzo appena descritto si ritrova in Arabella del 1892 continuando la storia attraverso la descrizione della vita della nipote di Demetrio Pianelli anche lei destinata all'infelicità meno conosciuta però è l'attività del De Marchi come traduttore infatti tra il 1885 ed il 1886 la casa editrice Sonzogno pubblicò a dispense la sua traduzione in versi delle favole di Jean de La Fontaine corredate dalle illustrazioni di Gustave Doré ed ancora oggi la traduzione più ambita è proprio quella del De Marchi qui la vediamo in una rappresentazione proprio dell'edizione Sonzogno del 1889 in particolare nell'illustrazione del topo di città e il topo di campagna appunto una delle favole di Jean de La Fontaine illustrate da Doré e poi tradotte da De Marchi lo scrittore compì un'azione di attualizzazione spazio-temporale delle favole tradotte facendo veramente un qualcosa di rivoluzionario eliminando spesso i riferimenti dotti o appartenenti alla cultura francese a vantaggio di espressioni più familiari al pubblico italiano sostituendo anche i nomi usati dalla Fontaine e presi direttamente da Rablè con nomi più presi invece dai personaggi dei promessi sposi dunque De Marchi cancella tra virgolette ovviamente l'ispirazione data dalla Fontaine ovviamente data da Rablè a La Fontaine dicevo e dà la sua versione in italiano prendendo i nomi direttamente dei personaggi dei promessi sposi però non stravolgendo assolutamente il messaggio di La Fontaine anzi dandogli una connotazione ben più comprensibile altra caratteristica importantissima del De Marchi è l'aver accentuato l'utilizzo dei proverbi e dei modi di dire nonché l'utilizzo dei segnali tipici della narrazione favolistica come frequenti ripetizioni dello stesso verbo suoni onomatopeici ed uso del dativo etico nonostante l'originalità di tali trasformazioni sicuramente figlie della frequentazione dei letterati scapigliati ovviamente che avevano sempre questa voglia di rivoluzione proprio anche dal punto di vista lessicale la critica ritiene che De Marchi sia riuscito a riportare nella versione italiana lo spirito del favolista francese mettendone in risalto tanto l'ironia quanto la sua visione amara della vita non capendo assolutamente nulla del lavoro dell'artista che in effetti non voleva riprendere lo spirito di La Fontaine che non era assolutamente descritto in questa maniera bensì voleva appunto rendere leggibile il più fedelmente possibile l'opera scritta in francese agli italiani dunque facendo un triplo lavoro che come il suo Demetrio Pianelli non verrà mai riconosciuto o per meglio dire verrà riconosciuto però solo nel periodo della sua vita e poi non verrà più citato nel corso dei secoli tutto ciò per arrivare al 1898 alla scrittura di libri a sfondo pedagogico come età preziosa dove esaltò i tradizionali valori religiosi e familiari in una posizione discutibile anche dal punto di vista politico auspicando la nascita come diceva lo scrittore di un grande partito conservatore e di un governo aristocratico invitando le classi popolari ad accettare uno stato di subalternità pressoché inaccettabile dunque la subalternità che raccontava nei suoi scritti De Marchi la accentuava e soprattutto andava a auspicarla una subalternità e un sentimento di oppressione che si espresse molto bene il 6 7 8 9 maggio proprio del 1898 quando Bava Beccaris che vediamo appunto la scena che vediamo qui in questa immagine Bava Beccaris generale dell'esercito in occasione dei moti del pane di Milano proprio svolti in quei giorni sparò sui dimostranti addirittura con un cannone alcuni parlarono come si legge di 127 morti altri tra cui i giornali contarono 500 vittime il generale fu poi premiato dal re Umberto I che oggi abbiamo visto nella lezione di Pompeo Mariani di tratto definito il re Buono con la croce di grande ufficiale dell'ordine militare dei Savoia il 29 luglio del 900 a Monza Umberto I venne assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci emigrato poi negli Stati Uniti cioè emigrato ovviamente principalmente negli Stati Uniti che dichiarò esplicitamente di aver voluto vendicare i morti del maggio 1898 e soprattutto l'offesa per la decorazione conferita a Bava Beccaris qui vediamo proprio l'immagine storica e famosissima dei tram usati come barricate per difendersi dal fuoco del generale e in questo clima appunto De Marchi scrive il suo trattato di pedagogia e soprattutto scrive anche altre opere sempre di sfondo diciamo abbastanza sentimentale però in questo stesso anno 1898 e influenzato ovviamente dai morti di Milano un pittore pressoché un poco considerato all'epoca Giuseppe Pellizza da Volpedo iniziò a lavorare alla terza versione del quadro poi denominato Il quarto Stato che abbiamo visto nella visita all'Accademia di Brera come intitolato Fiumana e dunque anche la pittura va a sancire questa importanza della non sudditanza ai poteri forti diciamo e alla dignità delle singole persone e continuando col discorso per De Marchi in persiero politico fu importantissimo come si nota da uno stralcio tratto da I nostri figlioli dove lo scrittore sostiene quanto segue un cittadino che non abbia un significato politico quel tanto che basti per la chiarezza del suo carattere non solo è un valore nullo nella generale attività ma un terreno insidioso sul quale non mi arrischierei di fabbricare la mia casa dunque per De Marchi tutti quelli che non avevano un pensiero politico non erano degni di nota e le vicende di vita personali come la morte di una figlia quindicenne ne acuirono il pietismo negativo pubblicò principalmente i suoi romanzi sui quotidiani anche perché rifacendosi al Manzoni sempre attribuiva alla letteratura una funzione educativa dunque più veniva divulgata la letteratura no e più appunto il popolo poteva ovviamente il popolo ricco poteva accrescere la sua esperienza e quindi migliorare anche la propria vita Emilio De Marchi giunti a questo punto muore a Milano il 6 febbraio 1901 e fu sepolto nel cimitero di Paderno Dugnano infatti vediamo proprio qui in questa immagine la tomba della famiglia De Marchi tomba dello scrittore della moglie e della famiglia in toto presso proprio il cimitero di Paderno Dugnano e qui è il particolare centrale della lapide dedicata allo scrittore dove si parla di lui proprio come scrittore onesto educatore geniale seminatore fra il popolo di buona parola cittadino in signa nei pubblici uffici nobilmente operoso per bontà generosa e indulcente a tutti carissimo morto fidente in dio appunto per ricalcare questa anche dedizione alla spiritualità che aveva in vita questo il monumento funebre riconosciuto presso Paderno Dugnano però di De Marchi esiste una celebrazione anche milanese infatti esiste una testimonianza commemorativa del poeta proprio al centro della città di Milano attraverso un monumento visibile a tutti e a molti sconosciuto collocato nei giardini pubblici di via palestro oggi chiamato Parco Indro Montanelli infatti proprio nella parte diciamo rocciosa del parco vi è l'erezione di questa di questo monumento a firma Antonio Carminati Antonio Carminati un nome illustre dell'arte appunto del secondo ottocento milanese che appunto si dedicò alla realizzazione di questo monumento funebre a Emilio De Marchi un monumento in bronzo del 1905 collocato proprio nei giardini pubblici Indro Montanelli di via palestro a Milano a imperitura memoria e anche appunto data la posizione del monumento a ribadire il fatto che De Marchi fu sì una personalità molto importante nella storia letteraria dell'ottocento italiano però sempre diciamo un po' relegata all'ombra quindi in quest'ombra anche da morto De Marchi continua a vivere e a sopravvivere detto questo io concludo anche per questa sera la mia lezione sul realismo per una fotografia morale dell'arte sperando di essere stato abbastanza chiaro scusate ogni tanto gli inceppi però appunto l'orario è quello che è dunque dato anche l'orario vi ringrazio sempre per la vostra partecipazione per il vostro affetto e per la vostra costanza e pazienza e come di consueto lascio qualche minuto per per degli interventi magari o per delle domande di carattere tecnico che che potreste fare dunque chi vuole intervenire prego può farlo e negli ultimi minuti poi vi rimanderò al prossimo appuntamento intanto intanto la ringrazio io per la lezione grazie signora nessuna domanda ringrazio molto carina sempre chiara la lezione grazie meno male mi toglie un peso signora perché appunto avendo molte cose in testa scrivendo molte volte durante la giornata magari ogni tanto mi inceppo e quindi se riesce un po' più lineare magari è meglio quindi si capisce benissimo tutto bene bene molto bene grazie mille poi hai preso anche gli spunti Merino di quegli piegati comunali che io mi sono rivista come non ho capito poi hai ripreso tutti gli spunti degli piegatucci comunali che comunque si è lavorato degli uffici un po' si vede non a quelle condizioni perché erano costruzioni antiche e nel moderno e diverso però proprio la vita di quelle persone io che sono stata anch'io impiegata negli ultimi anni mi sono ho capito che cosa voleva dire De Marti mi piace il realismo e la sua descrizione De Marti mi piace come scrittore comunque sì ovviamente un apprezzabile dal punto di vista della narrativa perché appunto raccontava in maniera puntualissima poi per esempio il cappello del prete fu un successo strabiliante appunto anche per quello poi ne fecero uno sceneggiato Rai quindi uno dei primi per esempio appunto tutti tutti quelli che vanno a cercare tra virgolette le origini del romanzo noir all'italiana in Scerbanenco Scerbanenco prende le cioè prende proprio spunto da De Marchi quindi volendo vedere l'origine di tutto è proprio De Marchi condivisibile per la narrativa un po' meno diciamo per le idee perché in effetti era leggermente diciamo estremista comunque meglio di lui appunto che frequentava assiduamente questi ambienti appunto della burocrazia ottocentesca cioè nessuno per raccontarla quindi e poi la cosa interessante è proprio il fatto che il monumento sia veramente visibile a tutti e nessuno lo vede hai ragione questo è vero perché non si confonde chissà quante volte l'avrò visto ma non ci avrò fatto caso è ragione sì sì si confonde proprio con la roccia no no lo vado a vedere lo vado a cercare andremo a cercarlo adesso è molto facile perché praticamente dalla parte dell'ingresso di via Manin dove c'è quella sorta di scoglio enorme di roccia su un lato di quello scoglio andando verso appunto Porta Venezia c'è la lapide e il busto di De Marchi ho capito beh ci andiamo appena il covid qua ce lo permette no oggi è una della giornata si poteva piantare se si passa per via palestro ah c'è il monumento a De Marchi no ma sì la lezione è chiusa se no Evelina mi brida no no prego prego anzi ne approfitto poi per dirvi che la settimana prossima rimarremo in Italia però andremo a Roma e parleremo di una delle espressioni più alte della romanità in generale e parleremo però questa volta di una tematica particolarmente storica perché prenderemo come spunto quel 1848 no che è stato molto importante nella vita di De Marchi e non solo nella sua ovviamente ma per la storia italiana e parleremo di Cesare Pascarella quindi daremo anche un altro accento della letteratura italiana stavolta di Pascarella in poesia ritorniamo nella poesia bello ok facciamo un po' prosa e un poesia un po' poesia un po' prosa un po' poesia grazie ancora va bene grazie ciao grazie a voi se non ci sono altri interventi io saluto ringrazio ancora e ci vediamo la settimana prossima storia dell'arte al mattino 11 e mezza 12 e mezza letteratura la sera 18 e 45 appunto 19 e 45 grazie mille buonasera grazie buonasera ragazzi ciao buonasera ciao Evelina buonasera ciao